Interaptogolano minasan konnichiwa! Ciao amici di Interapt! Oggi parliamo delle ultime novità in casa Nintendo. Non solo console per videogiochi, ma anche dispositivi portatili per navigare su internet e visualizzare programmi televisivi ad alta definizione. Vediamo un po'! Dopo l'HD per Xbox 360, anche la casa giapponese Nintendo esce con una console a cui è allegata un'applicazione che rende particolarmente facile vedere film o ascoltare musica. Infatti, gli utenti giapponesi potranno presto utilizzare il dispositivo portatile per navigare con Opera e vedere programmi TV ad alta definizione. Per ora, la casa nipponica non ha voluto comunicare ulteriori dettagli relativi al ricevitore televisivo. Il browser, invece, è stato sviluppato dalla norvegese Opera Software e grazie a una speciale scheda Wi-Fi permetterà di navigare anche in modalità wireless. Con 14,4 milioni di unità vendute in tutto il mondo, Nintendo DS appare in costante crescita. Nel frattempo, è ormai tutto pronto per il lancio dei nuovi videogiochi, attesi per la primavera. L'offerta comprende tra l'altro Tetris DS, un gioco ispirato agli antichi stessi di Nintendo che scrittura personaggi amati come Mario e Donkey Kong. In ordine, a marzo, è previsto il lancio in giapponese di una versione più compatta e leggera della console portatile chiamata Nintendo DS Lite. Ma il bello punto di rottura è Nintendo Revolution, dove il tradizionale controller da tenere con due mani viene sostituito da un sistema di controllo incredibilmente versatile, che potrà essere utilizzato con una sola mano. Questa interfaccia, intuitiva e futuristica, permetterà ai giocatori di correre, saltare, ruotare, sivolare, sparare, inclinarsi, tuffarsi, carciare, lanciare e segnare in un modo mai sperimentato nella storia del videogame. Con il Revolution sarà possibile giocare tutti i titoli per Nintendo GameCube e scaricare i giochi più amati degli ultimi 20 anni, mentre la Nintendo Wi-Fi Connection ti permetterà di mettere alla prova le tue capacità, affrontando giocatori a molti chilometri di distanza. La stagione dell'alta definizione è ormai iniziata. Giochi, film e programmi TV in HD bussano alle porte delle nostre case. Queste console garantiranno una visione più vera del vero. Dio, minasan, matamiato, oaishimashou!